Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Lysopee Ve ne andiamo pure avanti e vedere un pò Sono andato a vedere i miei video Non c'è niente da raccogliere con la sette indietro Meglio così Andiamo pure avanti E qui c'è una farfalla Però prima di farla sponare Volevo Far sì che questi qui si togliersi Ecco qui questo è uno Poi ce ne dovrebbe essere un altro E niente la farfalla è arrivata Andate in pace Eccoci qua A posto Salve Abbiamo preso anche questo Ok Abbiamo preso anche questo Benissimo Poi Andiamo qua A postolo E adesso saliamo Di qua Sì E qui ci sarà da divertirsi parecchio La vedo abbastanza Mi ricordo che era problemata Adesso Ho l'arma lenta Quindi fare un macello sicuro Vediamo un pò Farli avvicinare un pò I signori In modo tranquillo e pacifico Facciamo Facciamo lì Vediamo un pò se ci riusciamo Volevo prendere un altro Forca vacca È partito il signore Accedetti a lui Ok Scusi signore Non è niente di personale Ma io dovrei prendere un attimo qua Tac Ok Benissimo Ecco qua Così almeno siamo a posto Certo che gestire due Con quest'arma così lenta Non è certo Un'impresa Ha fatto prendere un cazzo di colpo Signore non si fa così Ma porca vacca Dicevo non è un'impresa Che mi può sempre riuscire Quindi provo a fare come posso Ci vuole pazienza Allora Prima di andare qua Volevo fin di esplorare qua Mi sembra giusto no? Eh sa fa anche rima Vediamo un pò Quello c'è di bello Beh Buono insomma nel senso Qua altro Qua no Penso che questa baracca L'abbiamo esplorata Dovuta a sufficienza Anche se io qua ho visto qualcosa Che c'è una cassa Adesso la cassa In qualche modo la apriremo Adesso mi ricordo Come si fa Dunque fatemi ricordare Da lì Che si va da là E che si va da là Che si va da qua Che si va da Da qualche parte Beh comunque dopo ve lo dico D'altro c'ho la guida sotto Mano che ho fatto io Con tanta fatica Raccogliendo informazioni Quindi dopo la prendiamo Salve signora Eccoci qua Eccoci qua E questa è andata Poi vediamo un pò se c'è altro C'è niente Qua c'è da prendere Salve Ok Questo è andato Poi vediamo questo Eh beh buono Va bene Sotto Sotto Bisogna andarci Ma dopo E quindi Adesso Facciamo una bella cosa Vediamo un pò Se ci riusciamo Ok Questa è andata Salve signora Non adesso Che non è fatto il caso Grazie Molto gentile Va troppo buona la signora Prima di andare qua Andiamo qua Ah Accidenti Ecco Signore salve Accidenti Ecco qua Andiamo qua Oh l'ha scelto un pezzo sopra Ma sono badato Che ci devo fare Qua abbiamo uno shotcat Ecco qua Per andare qua Che c'è un altro shotcat Perfetto Ecco questo Questo ci aiuterà Nel caso dovessi morire O volessi livellare Perché 65.000 Adesso dobbiamo andare anche lì Adesso andiamo Però è meglio in discesa che in salita Eh porca vacca Ricordiamocelo E questo è lo shotcat Vai Qui c'è Questo ginger Il ginger Eccolo qui Vedete Così siamo posti Almeno rispondiamo da qua Poi ritorniamo di qua Attiviamo qua E dobbiamo andare di qua Se mi ricordo ce la faccio bene Perché sono Bisogna dire anche questo Prendolo bene Ce la farò ce la farò Ce la faccio Ce l'ho fatta cioè Prendiamo questo Che c'è della roba Che ho lasciato Perché sono sbadati E sono così E non ci si fa mica niente Io ero venuto qua Per un motivo Sono più che sicuro buono Non ricordo assolutamente quale fosse Per prendere questo item E basta Direte E' preso un item Mica bubole Eccoci qua Ho preso tutto Adesso andiamo qua E qui arriverà il signoro Che è uno dei più simpatici Che io avevo mai conosciuto Io ora ho 65.000 anime Sono pronto a perderle Lei è pronto a fare Quello che deve fare Ok Magari dopo Volevo finire di esplorare qua Però effettivamente Non mi sembra Io non mi ricordo un caso Non c'era niente infatti Solo la possibilità della mia morte Beh meglio di niente direte no? Ecco qua Vediamo il signoro Signoro salve Ma non era Così che io L'avevo pensata eh Ok Andiamo così Tac Cialepadeu Eccoci qua Poi facciamo un altro po' così Tac Il signore è contento Oh porca Vacca Eh scusate Non vedo un cazzo Sì ma il signore salta un po' troppo Per i miei busti eh Che cazzo di salti fa Ogni cinque secondi ne fa uno E basta E che maleducazione Porca miseria Io sono lì che la picchio Lui quella lì che salta E mi vuole anche menare E non si fa così Non è educato Eh vabbè che ci volete fare Chi è? Ah che bello Devo farli fuori Se non mi vengano roppi i marroni Non è certo una cosa piacevolo Allora mi serve il braccio Top Eh signore però Potremmo anche volerci eh Ecco qua Questa è andata No perchè se no mi vengono a rompere l'anima Non è proprio caso Quindi cerchiamo di riavare L'avevo ucciso il signore So che di Eh l'avevo usato il pulsante Ok Questa è andata Va bene Tac Ok Non male che mi ha lasciato tempo L'arma è veramente lentissima Se era con l'altra Avevo già battuto Però insomma Sapete Che non è facile Magari riprendersi quelle Non sarebbe una cattiva idea E niente E' una pessima idea usare sto coso Ok Signore Adesso prova bene Ok Perfetto E quando ci vuole ci vuole Ok E adesso questa ci apriva qua Ho detto che Non era difficile Solo che di E' un pochino aggrissima Faccia un salto dietro lato Ma fatto signore Mi sono caccato in mano E non si fa così Eh Eccoci qua Sabe No aspetta un attimo signora Eh Mi vado a vedere un colpo Eccoci qua Posso aprire Benissimo Vediamo cosa c'è di buono Oh appetitoso Quella lì insomma Vediamo un po' cos'è Vediamo un po' cos'è Di questa Pesa di più ovviamente Avrò minuto tutto in più Quindi lo prenderei alla grande 55 siamo Ce la facciamo bastare Ok Vedrete che dovrò Infilegare qualche punticino nella Nella risaia Lì come si chiama Sempre quel cosi Per aumentare il peso Vabbè Abbiamo esplorato tutto No io qua non sono andato Direte che cazzo dici E qui per farla Dobbiamo fare prima una quest Che dopo andiamo a fare Che dopo qui Comparirà Con un coso ecliptico Di venigni E dopo ci dirà di venire qua Chi è? Oh salve Signora Non è Non si è estrusa E ci siamo andati Una pacca a Vicenza Porca vacca Vabbè è andata così E adesso ci sarà da divertirsi Io Vi preparo Ma la nascenda è molto pronta Vabbè Andiamo pure E qui ricordo Siamo in un game plus Quindi è un pochino più torto Usando un'arma Di cui non sono abituato E quindi sono un sacco di cose Da fare E da guardare Chi sta ansimando? Non si sente ansimare Non è piacevolo Vabbè andiamo di qua E vediamo come fare Salve Io a lei Mi farei così Perché proprio Non la sopporto Eccoci qua La signora l'ho abbassata Povero scemo Tac Tac Ecco qua Perfetto Preso anche questo Un po' ci sto prendendo la mano Con l'arma Però c'è dei tempi che È difficile memorizzare Veramente Perché questa Quest'arma qui Particolare Perché è difficile Perché ogni hit L'hit dopo Ha la peculiarità Che aumenta di velocità Quindi devo impararmi Tantissime velocità Perché fa più quattro Di velocità Quindi cambia ogni volta Ha quattro tempi diversi In base all'hit continua Che gli diamo Quindi per me È molto difficile Che avendo un hit solo Sempre la stessa velocità Ricordarsene Quindi Mi piace tanta pazienza Ok Fatto Questa è andata Ma finchè vengono A post da soli C'è nel senso Ce la posso che fare Quando sono due tre Con l'arma così È fatica Allora adesso andiamo Di qua Di qua Di qua Prendere questo Andiamo di qua Di qua Stiamo attenti Guarda che stronzi Eh vabbè Metterla proprio lì Dici i rolli E se sei Il fast roti E farei una cosa da panico Qui E insomma ci vuol pazienza Dunque dove devo andare io? Mi sono già dimenticato Ah di qua Ok saliamo Benissimo Su su Eccolo qua E adesso qui 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 Proviamo così Spiegiamo bene Perché questo Cioè non è difficile La prima run L'ho buttato subito Ma Ero veloce Adesso sono lento Ammazzato Vieni qua Ok Perfetto Ok Beh È andato bene lo stesso dai Ce l'abbiamo faccionato Vabbè il signore Ho perso la testa Maledizione Vabbè È andata Poi l'altra roba Non dovrebbe esserci nulla Eccoci qua Io penso che Posso anche andare di qua C'è tanto da fare Qua cosa c'è di bello Roba Oh Piacevole Qui non c'è niente Non c'è nulla Così Che simpatico Va bene Andiamo su Fra poco dovremo rispondere Eh vi dico io cosa dire Per fare I Rai SOP Perfetto Altra roba È qui 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 salirei un attimo sopra E vediamo un po' qui quante volte ci morirò È meglio che non ve lo dico Va che 82.000 sono pronto a perdere tutte Ma porca vacca Che questo è stato pensato proprio per me C'è questo livello Qui cadrai tanti di quelle volte E va fanculo Ok E vediamo un po' quante volte morirci Ecco qua Vi facciamo così Che sembra facile eh però Non sapete con chi state parlando voi Ma porca vacca Eccoci qua Vi facciamo così Stavo già cadendo eh Sono pronto per cadere Eccoci qua Eccoci qua Ma vediamo bene se non c'è niente no? Perché insomma Ritornarci Non era proprio nelle mie righe Ok Stavo cadendo Ehm Adesso qua Oh ho sbagliato No invece ho fatto bene E niente Basta Tutto qua Sembrava difficile Vero? Lo ho fatto sempre io Per sembrare Un eroe alla fine Ma porca vacca Ok E abbiamo il nostro santuario Quindi possiamo livellare E qui c'è il gatto alla volpe Perfetto Io livellerei Perché insomma E ora Aumenta il livello E facciamo Ehm Forza motrice Quanti? Quanti li facciamo? Uno lo voglio tenere un po' di Da parte Allora così faremo 29 Facciamo più 23 Salutami tutti Non è proprio poco eh Più 23 dell'arma basica Incominciare a essere interessante Portarlo su Poi Bene Adesso Parliamo Con il gatto E gli possiamo dire Che gli diamo una mano Ci darà Il 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 Vinile Però se gli diciamo di no Non succede niente La seconda round Ehm Perfetto Perfetto Ehm Possiamo anche cercare Tanto Facciamo i buoni Ok Vediamo cosa c'è qui Non possiamo neanche parlare Stavo pensando che questo dopo lo apriamo Perché il vendor è qui dentro Quindi volevo tenere da parte un po' di soldi Per quello Se no Non c'ho proprio un soldo Finalmente facciamo scorta Di cose Stiamo attenti che qui Sono tosti Qui Eh Basta far così mi sembra Mi sembra che ci volesse l'altra Ah C'è stato bisogno E' giusto avere un po' di punti Gratis Insomma Qui aveva tanta gente Ok Ah Grazie eh Siamo pronti What up Ok Altra volta ero muti dopo Infatti ero da solo Ok Ok Se pensate al cane Io Venni sarei grati Venni sarei grati Perché Questo è proprio Una palla col cane Perfetto E questa è andata Adesso se ne vanno un po' loro Ok 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 vediamo di far così Caccia leppa What up Ok Perfetto E adesso Tanti saluti Benissimo Allora Allora Vediamo un po' Qui si può scendere Di sotto Che mi sembra che dobbiamo farlo Adesso Mi ricordo mica più Ci guardo eh Allora Dobbiamo scendere giù Però Prima Io mi sono scordato di prendere un'altra Scusate Mi sono distratto Adesso ho fatto così Che ci volete fare Qua Dobbiamo salire E prendo un item Eh ci vuol pazienza con me Perfetto Andiamo qui Andiamo qui E poi c'è un altro Anche qua Qui Esatto Perfetto Che cazzo sta facendo Ma con chi cazzo sta combattendo Va a capire Per me è sceso giù di sotto qua Così è naso Ecco Andiamo a scendere qui E' stato gentilissimo A ucciderlo per me Perché Mi serviva proprio E vediamo un po' Di far qualcosa Ok Perfetto Prendiamo E prendiamo Vediamo cosa c'è di buono Ok Mi sono interessato A questo Che ci da tutto in più E quindi Mi fa piacere E' più uno insomma Dai Peso un pelo di più Siamo a 56 Non siamo ancora in combra Però dovremmo fra poco mettere Assolutamente un altro punto Mi dispiace Ma devo farlo E quindi Si Andiamo avanti Vediamo questo Perfetto Dobbiamo andare A farci valutare Con la medaglia Che abbiamo trovato Dal tipo Ok Facciamo così Ottimo Benissimo Adesso possiamo salire Ottimo E siamo usciti Da dove siamo entrati No aspettate eh Allora adesso ci salutiamo Ci salutano loro C'è nel senso Vediamo Vediamo Benissimo E' tutto molto interessante Io volevo andare qua Al santuario Dove cacchio è Dove cacchio è Non mi ricordo mai dove è Abbiamo preso Ho tirato lo shotcat E poi Ve lo sono dimenticato Quale fosse Comunque sia Volevo andare qua Al santuario E dopo prendiamo lo shotcat Che cacchio è finito Non me lo ricordo Di qua ecco Ah qui non l'abbiamo ancora aperto Che cazzo Che cazzo apro Che ne abbiamo ancora aperto Vabbè comunque sia Volevo andare qua Ma perché Dovemmo andare Da farci valutare Esatto L'hotel craft Così dopo ci salutiamo Ritorniamo online Dopo ammazziamo Chi dobbiamo ammazzare Perché c'è uno bello torto Quello lì Con lo scudo Che è proprio insopportabile E ci vuol pazienza Ci vuole Io non ho neanche niente da tirare Posso provare quegli accidenti Non so se Possono funzionare Ne conosco di buoni Di parolacce Non penso che sia molto più Penso a morirci Vediamo Benvenuti a casa Eh non lo so perché ho fatto questo Mi andava Quindi l'ho fatto Ok Ecco qua Vabbè questo l'abbiamo già visto Nella Tarana E siamo a Porto Lui ci dà Ed è molto gentile quello che ci ha dato Eh non c'è nient'altro Andiamo da lui anche Perché ormai siamo qua Eh no non c'è niente altro Che possiamo andare a dirci Parliamo con la signora Che si sposta sempre E non ho niente da dirci Beh io sono contento Vi ho parlato con tutti Eh non dobbiamo fare altro Quindi possiamo anche chiudere la qui ragazzi Il prossimo episodio Andiamo avanti Come al solito vi invito C'è un like e un commento Se vi piace la serie E fammi sapere cosa pensate Prima di metodo sotto la cima Ciao ciao